L'ho messo a lavare, come lavare? Perché era sporco. E ora come faccio? Mettiti quell'altro. Quale altro? Quello vicino. Ti devo dare la pistola? No, non darmi la pistola. Non ne ho bisogno. Salve e ben ritrovati in questo nuovo video. Per chi bazzica sul canale da un po' di tempo, il titolo del video potrebbe far nascere qualche strano déjà vu. Infatti già molto tempo fa ho parlato dei finali di Doraemon con un video intitolato appunto il vero finale di Doraemon. Parliamo di giugno 2015, un giovane scrivacheno con l'ausilio di suo fratello, a cui avrebbe dato una pistola come Ciuschi per risolvere i suoi problemi di bullismo. Vi lascio immaginare cosa sarebbe successo oggi con tutte le nuove regole di YouTube sulla tutela dei bambini, bla bla bla. Fa un video su Doraemon, un video che avrebbe rappresentato la gioia e il dolore per questo canale. Gioia perché ha 5 anni dalla sua uscita e rimane il secondo video più visto del canale in assoluto, con 355.000 visualizzazioni. Numeri che non sono un bruscolini, cioè se considerate che le visualizzazioni medie dei miei video sono 50, vi fa capire quanto sia fuori scala quel risultato. E sebbene sia felice ovviamente che il mio video sia stato visto da così tante persone, dall'altra parte non è un risultato di cui sono particolarmente orgoglioso. Il primo motivo è che il video risulta essere abbastanza frammentario, abbastanza privo di informazioni, perché la qualità di video all'epoca non era tale come quella di oggi. Oggi siamo molto meglio, sia qualità di video che la barba, cioè se... voglio dire. Il secondo è che non vi posso far capire quanto odio, quanto odio ho ottenuto per colpa di quel video e quanti commenti e insulti e minacce ho ricevuto, ma con cadenza quotidiana, negli ultimi anni, perché nel video ho detto che non mi piaceva Doraemon. E capisco, capisco perché per un pubblico giovane, per un bambino, per un ragazzino che segue Doraemon e ama tantissimo quell'opera, sentire questo stronzo che dice che fa schifo sia qualcosa di estremamente fastidioso e che ve lo possa portare a fare commenti e consulti su internet. Per questo motivo, prima di andare a parlare dei finali, cosa che faremo a breve, quindi non temere, parliamo un attimo dei per chi non mi piace Doraemon. La regione è presto detta. Non mi piacciono i personaggi di Doraemon. Partendo dal protagonista, Nobita, considero Nobita essere un ragazzino palloso, essere fastidioso, opportunista, essere pigro e estremamente piccolone. Sono tutte caratteristiche che sono tipiche di un bambino. I bambini piangono, i bambini fanno le bizze, fanno i capricci e tutti i bambini vorrebbero avere i ciuschi di Nobita e avere un amico come Doraemon. Quindi posso capirlo perché a voi piace e a me no. Cioè, d'altra onda, semplicemente non sono parte del pubblico per cui è pensata quell'opera. Però se non mi piace già il protagonista, cosa posso dire degli altri personaggi? Abbiamo Jan, che è il bullo. Quindi, Jan non può essere un personaggio positivo. Quell'altro ragazzino che segue il bullo per non essere bullizzato a sua volta e quindi se la prende anche lui. È l'ombra di Jan, lo sgherro. E poi abbiamo Shizuka, che è praticamente l'espediente sessuale in un'opera per bambini, visto che è quasi sempre nuda e si fa quasi sempre il bagno. Quindi, ok. Detto questo, andiamo a parlare dei finali di Doraemon. Cerchiamo di elaborare questo concetto il più velocemente, ma anche più a fondo possibile, così da poter fare luce su quali siano veramente i finali o meno di Doraemon. Innanzitutto perché si parla di finali e non finale? Perché si utilizza il plurale? Non esiste una conclusione creata dall'autore di Doraemon? Purtroppo no, perché dovete sapere che gli autori di Doraemon, infatti sono due persone, Abiko e Fujimoto, non hanno potuto dare una conclusione a quest'opera perché nel 1996 Fujimoto ha avuto la brillante idea di tirare le cuoie. Una volta morto Fujimoto, la storia non è più stata serializzata e non ha mai raggiunto una conclusione ufficiale. Sebbene si possa parlare di un finale ufficiale, ma di cui parleremo a tra poco. Proprio la mancanza di un finale ufficiale ha creato negli utenti del web il bisogno di dare loro un finale all'opera. E per questo sono nate diverse teorie, diverse opere che hanno creato dei finali fittizi per Doraemon, che non sono ovviamente veri, non sono riconosciuti ome ufficiali, ma che hanno guadagnato tantissima popolarità nel corso del tempo. Un motivo forse per cui alla fine è stato rilasciato un finale ufficiale, sebbene si. Vedremo dopo. Allora, parliamo dei vari finali. Ce ne sono circa cinque, ok? I finali più conosciuti in assoluto, sebbene se ne posso parlare di decine per quanto riguarda gli utenti che favellano in giro per il web. Uno dei finali più famosi in assoluto è quello che vede Nobita svegliarsi da un coma. Quindi tutte le avventure che ha vissuto con Doraemon e con i suoi amici sarebbero state frutto della sua fantasia durante questo periodo di sonno. E di fatto lo stesso Doraemon nasce dal fatto che sul letto adagiato vicino a Nobita si trova un po' pazzo con le fattezze del missione. Quindi cosa sarebbe successo? Che il subconscio abbia appreso l'immagine del pupazzo e l'ha proiettata nella fantasia di Nobita creandogli un compagno di giochi. Ovviamente un finale del genere non è vero, ok? E non è neanche lescito pensarlo perché sebbene ci possa interessare, ci possa incuriosire. Vi ricordo che la maggior parte delle opere ha dei finali fatti dai fan che sono spaventosi, che sono strani, perché è interessante avvicinare qualcosa di un contesto a un altro. Un programma per bambini, è un finale horror, è molto interessante, motivo per cui si pensa che nel finale di Finanza e Ferb la sorella sia schizofrenica e i fratelli non esistano. Si pensa che Tom e Jerry si suicidano a causa di un episodio fake che gira per internet, di cui parleremo di nuovo in futuro. Perché quello è stato un altro video che mi ha causato una quantità incredibile di antagonismi, perché la gente non riesce a capire quello che dico. Quindi cercherò di reiterarlo ancora una volta, sperando che per una volta il messaggio passi. Comunque, ovviamente il finale con Nobita in coma, sebbene sia solo uno dei due finali in cui si vede Nobita in coma, non è quello vero. Il secondo finale, che è assolutamente quello più conosciuto in assoluto, perché è arrivato in forma di fumetto, vero e proprio, con uno stile molto simile a quello degli autori. Per questo motivo per molti è stato considerato ufficiale, fino a che non c'è stata la smentita. È quello del disegnatore di Don Jishi, quindi che serve un fan fiction fatto in forma di disegno, Nobuo Sato. Che ha utilizzato uno stile molto simile a quello originale, e che ha creato un finale, da cui sono partite poi diverse sfaccettature, che hanno piccole differenze tra di loro, ma comunque in generale che prevede che Doraemon perde le proprie batterie, si spegne, a volte per colpo di un topo che le ruba, a volte a causa di un guasto. E Nobita cerca in tutti i modi di salvarlo, cosa che lo spinge di fatto a studiare, diventare uno studente modello, un ragazzino a modino, fino a che non diventano ingegneri e riesce ad aggiustare i propri amici, sebbene sia adulto e quindi si ricongiunga con Doraemon solamente in età adulta, allora l'amicizia durerà per sempre. Questo finale, per quanto interessante, un po' non posso negarlo, e per quanto sia simile nello stile a quello degli autori, non è quello ufficiale e non deve essere considerato come tale. Però non temete, ci sono altri tre finali da vedere, di cui uno è quello ufficiale. Il finale più horror, mettiamo in questo modo, più splatter in assoluto, a cui mi ero ispirato io per l'intro del primo video, in questo finale si vede Doraemon che, stufo di tutte le richieste di Nobita, alla sua unesima richiesta di avere Anciuski, gli passa una pistola dicendo di guarda Anciuski, mettiti la canna in bocca e premi il grilletto. Nobita si fa saltare le cervella così facendo e Doraemon è finalmente libero dalla sua pressione. Per quanto io apprezzi molto questo finale, penso che ve l'ho già detto all'epoca, apprezzi molto questo finale perché odio Nobita, vediamola in questo modo, ovviamente non è vero. Lo stesso motivo di prima, ragazzi, ma secondo voi, un finale del genere può essere vero per un'opera per bambini? Ora, al di là di tutti i discorsi irrazionali, di tutte le teorie del complotto, ah, potrebbe essere così, potrebbe essere così, che sono interessanti da fare, che mi diverte anche leggere anche a me ogni tanto, ma secondo voi un'opera per bambini può effettivamente finire in questo modo? Ovviamente no. Abbiamo un quarto finale prima di arrivare a quello ufficiale. Nel quarto finale Nobita è di nuovo in coma. Ho finito in coma per colpa di un incidente, Doraemon cercherà in tutti i bambini di salvare l'amico, ma alla fine dovrà utilizzare Anciuski per permettere di andare dove vuole e Nobita chiede di andare in paradiso. Quindi è un finale un pochino più onirico, un pochino più al di là dei sogni, un pochino più piacevole, sebbene il tema sia comunque pesante, che è interessante, ma non è ufficiale neanche in queste volte. Infatti, cosa è successo? Che la casa editrice, a un certo punto, si deve essere stufata di tutte queste teorie, di tutti questi complotti che giravano attorno alla propria opera e forse per quello, forse semplicemente per venire incontro a tutti quei fan che volevano vedere un finale di Doraemon, volevano sapere come finiva l'opera che avevano imparato ad amare, è andato a un finale ufficiale, ma solo nella versione animata, non nella versione magna. Nella versione animata, infatti, si vede Nobita, che è ormai cresciuto e che non ha più bisogno di Doraemon per affrontare le sue sfide quotidiane, sposa Shizuka e Doraemon, mentre il ragazzino dorme, si leva di tre passi da coglione e se ne va via verso il futuro. Questo dovrebbe essere il finale tecnicamente ufficiale, capisco che non soddisfi la fantasia della maggior parte di voi che preferiate convivere con l'idea che un finale non vero sia quello più ficcante, però dobbiamo attaccarci a questo perché altro non c'è, purtroppo, per colpa di Fujimorto, rimaniamo solo con questo. Vi riporto in descrizione un articolo di Mondofox che ha sviscerato tutti questi finali e che alla fine ha inserito un'analisi interessante che parlerebbe del motivo per cui Doraemon, di fatto, torna in atto nel tempo per aiutare Nobita e del fatto di come si possa modificare il futuro e di come le azioni nel passato, modificando il futuro, al ritorno al futuro, appunto, possono cancellare delle cose. Di fatto, se il Nobita del futuro è uno sfigato del cacchio e Doraemon l'aiutasse a andare via da quel cammino, diventasse una persona di successo, quel futuro lì verrebbe a mancare e quindi anche i figli che erano nati in quel mondo lì verrebbero a sparire. I ghiari hanno un sacco di problemi, insomma. Quella è un'analisi interessante che vede una specie di Doraemon come se fosse Terminator, quindi vi consiglio di leggerla. Spero di aver fatto di nuovo un po' di luce, sono passati cinque anni, sono cambiato io, siete cambiati voi, ma non è cambiato il mio odio per Doraemon. So già che questo video mi causerà una quantità di calci nel culo infinita, però ho trovato interessante analizzare nuovamente un argomento che avevo già trattato molto tempo fa. Penso di farlo nuovamente. Fatemi sapere se vi piace un tipo di video così, un tipo di video in cui si ribanga il passato per guardare il futuro. Vi voglio bene. Buona buona. Buona buona. Seguitemi sui social, che non mi segue nessuno, mai pubblico le fotine nude, belle, ciao.